Facciamo Rete Civica, il progetto che vede coinvolti gli agenti della Polizia Municipale di Gela. L'obiettivo è quello di potenziare l'ufficio formazione del comando dei vigili urbani, i cui interventi adesso saranno estesi anche alle famiglie e ai cittadini comunitari ed extracomunitari. È un progetto la cui finalità è molto semplice, è quello di risvegliare la coscienza civica all'interno della nostra società gelese e coinvolgendo non solo i cittadini di Gela ma coinvolgendo anche quei soggetti che vengono dall'esterno come gli extracomunitari e come gli stranieri comunitari affinché anche loro possano essere coinvolti in questa rinascita della coscienza civica. In che cosa consiste? Consiste nella necessità di far capire qual è la razza teleologica delle regole che lo Stato italiano impone a tutti i cittadini italiani riconoscendo loro diritti e doveri. Gli assessori comunali Eugenio Catania e Licia Abela. Credo fortemente che non solo la repressione ma anche la parte educativa della Polizia Municipale deve essere potenziata. Tramite quindi l'aiuto di tutta l'amministrazione oggi inauguriamo dei nuovi corsi dell'Ufficio Formazione della Polizia Municipale a cui verrà data nuova linfa, insomma mezzi, strumenti e personale per espletare queste nuove funzioni. Uno dei corsi è il corso che riguarda l'educazione stradale per i genitori dei ragazzi di tutte le scuole di ordine e grado. L'altro è un corso per l'integrazione degli immigrati, degli stranieri nella nostra città, sia extracomunitari che comunitari. Questo rientra insomma in un programma che è anche di maggiore sicurezza per la città di Gela rispondendo ai criteri di prevenzione generale che non si articola solamente nella parte repressiva ma anche in un'attività formativa attiva per fare capire alla gente che rispetto delle regole serve per la sicurezza di tutti. I servizi sociali e istruzioni coinvolti in questo progetto si consolida sempre di più la sinergia tra i vari settori del Comune di Gela e ancora una volta proponiamo ovviamente oltre all'educazione stradale rivolta ovviamente ai ragazzini che frequentano le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Gela anche una formazione nei confronti ai genitori, quindi un servizio che va oltre, un servizio che vuole veramente andare alla sostanza e quindi mirare ad una vera educazione, ad un'educazione del cittadino che si pone in maniera civile nei confronti della cittadinanza.